Amici 2018 Anticipazioni Amici 2018 Settima puntata, svelato il vincitore del ballo Amici 2018, anticipazioni Settima puntata 19 maggio, ecco cosa succederà. Cresce l'attesa per la settima puntata del serale di Amici 2018 che verrà trasmessa questo sabato 19 maggio in Prime Time su Canale 5. . Le anticipazioni ufficiali rivelano che ormai stiamo per avvicinarci verso il gran finale di questa diciassettesima edizione del talent show e quella di questa settimana sarà una puntata decisamente molto attesa ed importante, durante la quale verrà proclamato il primo vincitore della stagione. . Ecco cosa succederà nella settima puntata di Amici 2018. Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che nel corso della settima puntata del serale in onda su Canale 5 verrà annunciato il vincitore di Amici 2018 categoria ballo. . Come ben saprete, infatti, in gara sono rimasti soltanto due ballerini, Lorem che rappresenta la squadra blu e Brian che sta rappresentando la squadra bianca. . I due ballerini sono stati messi in sfida la scorsa settimana dalla professoressa Alessandra Celentano ma il verdetto finale di questa gara non è stato comunicato sabato scorso. . La decisione della giuria di Amici sul vincitore della categoria danza di questa edizione verrà comunicato in diretta nel corso della settima puntata del serale in onda questo sabato 19 maggio in Prime Time su Canale 5. . E così Maria De Filippi sfodera questa arma vincente per combattere al meglio contro la finalissima di Ballando con le stelle che andrà in onda questo sabato sera su Rai 1. . Lo show di Millie Carlucci giunge al termine dopo unedizione molto positiva dal punto di vista degli ascolti che ha saputo dare filo da torcere al serale di Amici. . Ecco gli ospiti del serale di Amici 2018 del 19 maggio. Ma la proclamazione del primo vincitore di Amici 17 durante la puntata di sabato 19 maggio non sarà lunico evento della serata. . . Le anticipazioni ufficiali, infatti, rivelano che la De Filippi ha invitato alla sua corte anche uno dei cantanti del momento, che assicura come sempre un botto di ascolti in tv. . . Come anticipato dai colleghi di tvblog si tratta di Albano, che questo sabato sera potrà cantare in diretta con alcuni degli allievi della scuola e stando alle indiscrezioni del momento, non si esclude che al suo fianco possa esserci anche la sua ex moglie Romina Power. . Insomma la coppia Albano-Romina Power potrebbe essere lasso nella manica di questa settima puntata del serale di Amici che mira a battere la finalissima di Ballando con le stelle 2018 in onda su Rai 1. Riconfermata in giuria la presenza di Arisa. .